Musica Praticamente giunta a termine la fase delle vaccinazioni per categorie. E da oggi, sottolinea il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, mettiamo fine alla corsa con discriminante e si procederà tutti alla pari seguendo semplicemente l'età anagrafica. Scuola, sanità, giustizia. Dopo quello non parliamo più di categorie, ci mettiamo così che è un criterio oggettivo e evitiamo questa corsa a io sì e no con l'età. E conseguentemente partiamo dalla fascia di età dagli 80 ai 75 e poi progressivamente sotto. Naturalmente per quello che riguarda gli over 80 invece continuiamo con il sistema che ha visto la regione toscana affidarsi ai medici di famiglia. E da sabato ci stanno lavorando i programmatori per poter aiutare il sistema dei superfragili metteremo anche un sistema con un sito nel nostro InfoCovid di pre-prenotazione. Ovvero un manifestarsi da parte dei superfragili cosicché noi abbiamo la possibilità di codificarli e quindi diventiamo anche noi elemento di sollecitazione se dalla ASL non hanno trovato il contatto direttamente con il superfragile per poterlo fissare l'appuntamento e consentirgli la somministrazione del vaccino. Nelle scorse ore si sono susseguite riunioni con i sindaci della Toscana, un dibattito in Regione Comune sul da farsi pensando ad eventuali nuove restrizioni. Alla luce di tutto ciò che cosa si prospetta per la Regione? Voglio con queste riunioni impostare direttamente un rapporto con loro perché poi nella giornata di venerdì noi dopo che sappiamo alla luce della riunione del Comitato Tecnico Scientifico se siamo in zona arancione o in zona gialla o in zona rossa sulla base della collocazione che ci dà solo ed esclusivamente il Ministero della Salute noi nell'arco di poche ore con i sindaci che conoscono a questo punto il meccanismo siamo in grado di dire quali sono le province in zona rossa come abbiamo fatto questa settimana con la provincia di Pistoia quali i comuni in zona rossa come abbiamo fatto in questa settimana con i sindaci dei comuni di Cescina, di Castellina Marittima e di Areggio quali sono i comuni che invece hanno provvedimenti limitativi sulle scuole perché la situazione o destra molta preoccupazione per i condaci o molte varianti e in questo momento sono 40 i comuni. Noi questo lavoro per la settimana prossima lo dovremmo fare fra venerdì e sabato mattina un modo che i provvedimenti entrino con il preannuncio in attuazione lunedì mattina e conseguentemente io subito dopo aver saputo com'è la Toscana convocherò il Comitato d'emergenza e prevenzione scolastica, il CEPS dove insieme al Consiglio di Tecnici e tutti coloro che ne fanno parte prenderemo diciamo delle indicazioni su quali saranno nella prossima settimana le province in zona rossa i comuni in zona rossa, i comuni che avranno provvedimenti sulla scuola. Per Gianni l'aumento esponenziale della richiesta di posti in terapia intensiva preoccupa ma il sistema è pronto, sottolinea. Mi sento di dire che il sistema tiene e che ancora abbiamo margini, del resto è vero siamo a 1300 posti Covid occupati, a ottobre ci fu un momento in cui arrivamo a superare i 2200 e come vi ricordate ce la facemmo, conseguentemente i margini ancora ci sono. Infine Gianni si dichiara soddisfatto delle mosse del nuovo governo targato Draghi. Io vedo la luce in fondo nel tunnel perché sento che abbiamo un governo che con la presidenza Draghi sta dando un input molto forte in quella che è la vera questione, vaccini, vaccini, vaccini e quindi si sta adoperando anche sul piano internazionale per farne arrivare. In vista di eventuali ulteriori restrizioni questo è il pensiero dei gruppi consigliari. Le persone devono avere grande responsabilità del rispetto delle regole quindi se servono ulteriori restrizioni si facciano, nel mentre si fanno queste restrizioni si faccia una grandissima campagna di vaccinazione e velocizzare l'iter di autorizzazione degli anticorpi monoclonali del farmaco perché senza farmaco poi noi non usciamo mai da questa storia. Non può esserci un nuovo lockdown perché una nuova zona rossa, un nuovo lockdown significherebbe uccidere un'economia che è già morente. Abbiamo bisogno invece di una iniezione di liquidità, abbiamo bisogno che il governo nazionale finalmente metta risorse vere. Per questo dobbiamo uscire con misure chiare e mirate. La prima fra tutte è che dobbiamo vaccinare veloce, dobbiamo vaccinare tutti e soprattutto, consentitemi di dire, dobbiamo vaccinare chi ha delle patologie. Si continua a concentrare su le restrizioni e sui provvedimenti restrittivi anziché su quelli che possono essere i rimedi. Noi abbiamo presentato un piano vaccinale dove fondamentalmente affrontiamo tre temi. Chi deve farsi il vaccino, chi lo deve inoculare, dove purtroppo su questi temi non siamo riusciti a dare delle risposte concrete e quindi c'è bisogno di fare le restrizioni che sono un'accettazione, una sconfitta dopo oltre un anno dall'inizio della crisi pandemica. Il problema non è nella scuola e nelle strutture delle scuole, il problema è fuori dalle scuole. Quando si portano i ragazzi e i bambini a scuola, quando si vanno a prendere con i genitori, è sui trasporti pubblici, lì è il problema, non è nelle scuole. La didattica deve essere garantita. Quindi benissimo l'azione capillare di valutare comune e comune e valutare quindi la chiusura delle scuole oppure del comune stesso in zona rossa, però in maniera capillare, non in maniera generale. L'individuazione di zone rosse puntuali, circoscritte, possono servire per limitare e contenere la diffusione del virus, intervenire con un tracciamento immediato in quelle realtà e preservare possibilmente invece dall'andare in un'zona rossa generalizzata per tutta la regione. Non bastano più ristori, a questo punto serve qualcosa di molto più definito e non dobbiamo fermarci in questo momento che abbiamo trovato la soluzione, che è quella dei vaccini. Ricordo ancora una volta la mia proposta, che poi è stata raccolta anche qui in Consiglio regionale, dell'autoproduzione dei vaccini. Si sta procedendo in questo modo in molte regioni ed è forse l'unico modo per avere tutte le dose che servono senza che ci siano dei tagli a bloccare la nostra attività. All'unanimità il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione ed iniziativa della Commissione Sanità che impegna la Giunta ad implementare l'offerta dei servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario regionale, anche attraverso specifici progetti sperimentali. In particolare dovrà essere valutata la possibilità di attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare meglio la loro fragilità emotiva causata dal Covid-19. Evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid e come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo. Insomma, tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la Regione. Il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento che determina paure, che determina insicurezze e che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento. Non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno, perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni, perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. È un momento difficile per tutti noi, lo dicevo prima, e soprattutto penso ai bambini. Un supporto psicologico deve aiutarci a superare questa fase, che è una fase difficilissima di relazioni interpersonali, ma anche la paura del domani. Per questo ho votato convintamente a favore di questa proposta di risoluzione. I ragazzi stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici e questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema, perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, e quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. Stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. I minori più piccoli, i bambini, sono stati sicuramente tra le fasce più colpite. Ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico. E quindi ben venga che la regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in realità questa pandemia. Abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici, perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico. Per cui noi abbiamo specificato che, pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante, debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. È molto bello che l'8 marzo quest'anno sia vissuto il Consiglio regionale attraverso la testimonianza, la vita di 5 donne che nel mondo dello sport, dell'università e della ricerca vite, impegni e simbolo di quanto sia importante, fondamentale, la valorizzazione della donna nella società civile, nelle professioni, nella espressione del suo talento. Cinque donne, cinque eccellenze della Toscana, che si sono distinte per merito, volontà e ingegno. In Consiglio regionale la Toscana celebra la giornata internazionale dei diritti della donna. C'è Elisa Volpi, ricercatrice a Ginevra. Spesso e volentieri sei l'unica donna nella stanza. C'è anche, chiaramente, è più difficile portare avanti una carriera accademica, è più difficile perché devi prendere delle scelte, eventualmente, spesso. La carriera accademica ti richiede un'estrema flessibilità che spesso sei famiglia, magari non sei disposta a seguire, eventualmente, no? Semplicemente cambiare città, cambiare paese, tutte le volte, solo perché c'è un posto disponibile. E penso sia più difficile, forse, se sei donna che uomo, prendere questo tipo di decisione. Claudia Sala, della Toscana Life Science, fa parte del gruppo di ricerca toscano sugli anticorpi monoclonali per la cura del Covid. Il combattere contro la malattia? Si combatte con il vaccino, si combatte accettando la campagna vaccinale, si combatte anche, diciamo così, sul campo, come noi stiamo facendo, con la ricerca di nuovi metodi di cura, si combatte anche formando le nuove persone, le nuove generazioni, che, ad esempio, nel nostro laboratorio stanno imparando a diventare ricercatori. Ancora una ricercatrice, Teresa Fornaro, unica italiana tra gli scienziati della missione Mars 2020. Io direi che, almeno per questa missione della NASA, Mars 2020, non ci sono discriminazioni reali. E' un esempio, appunto, che il capo del progetto scientifico è una donna, anche la manager del progetto scientifico è una donna, e siamo stati selezionati a novembre scorso 13 scienziati per supportare le attività del rover attraverso degli studi complementari. Di questi 13, 7 siamo donne giovani. Ecco, io sono l'unica italiana tra questi 13 che è stata, appunto, selezionata. Però, appunto, è un buon, io direi, un buon segnale, molto positivo, proprio perché la scienza non guarda al genere, ma guarda alle capacità della persona individuale. Poi il mondo dello sport, con Ambra Sabatini, velocista. Allora, il mio prossimo obiettivo saranno le Paralimpiadi di Tokyo. Avrò alcune gare prima, tra cui i campionati italiani e forse gli europei. Mi impegnerò al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile, che in questo caso sarebbe la medaglia d'oro. E ancora Chiara Sacco, campionessa di canottaggio. In questo giorno che rappresenta, diciamo, il simbolo di tutte le donne, di tutti i diritti che abbiamo acquisito nel tempo, sia economici, di indipendenza economica, politica, sociale. Quindi per me è un doppio onore, diciamo. La mia storia nel canottaggio inizia da piccola. Io ero una bambina in sovrappeso e tutti mi prendevano in giro. Ero un po' bullizzata, diciamo, come si direbbe oggigiorno. Iniziai questo sport, diciamo, all'inizio per dimagrire. E poi mi sono appassionata. Il mio corpo è cambiato, è diventato tonico, atletico. Ho acquisito autostima, ho acquisito anche forza caratteriale. Ho imparato a non mollare mai, a credere nei miei sogni. Sono particolarmente orgoglioso, ha commentato il Presidente del Consiglio regionale, che le cinque premiate siano tutte under 40. In questo momento vogliamo mandare un messaggio, un messaggio forte di speranza che la Toscana deve ripartire guardando al futuro con gli occhiali delle donne. Io penso che in un momento come questo dobbiamo mettere in campo risorse esattamente in questa direzione. La nostra proposta di legge che abbiamo fatto durante la campagna elettorale è quella di dare l'asilo nido gratuito a tutte quelle famiglie che hanno un ISEE sotto 40 mila euro. È un modo per dare risposte ad un welfare che richiede, come dire, un ruolo più forte ancora delle donne nella nostra società. Grazie a tutti!